Calendario scolastico 2022-23 Ponti 2023, migliori calcolatrici scientifiche, i promessi sposi, podcast, mappe concettuali, Date maturità 2023, tema sul ritorno alla normalità dopo il coronavirus, temi svolti, riassunti dei libri Aldo Moro, 9 maggio 1978 Il 9 maggio del 1978 è stato trovato, dopo il sequestro durato 55 giorni, il corpo di Aldo Moro, politico, statista e giurista italiano. Cinque volte presidente del Consiglio dei Ministri e segretario politico della democrazia cristiana. Ricordiamo Aldo Moro, a 44 anni dalla morte, ripassandone la biografia e l'ultimo periodo in vita, dal sequestro del 16 marzo 1978, fino al ritrovamento del 9 maggio. Ripassa con i nostri appunti e leggi i temi svolti sull'evento, pagina indelebile della nostra memoria democratica. Aldo Moro vita, biografia breve Aldo Moro nacque a Maglie, in provincia di Lecce, il 23 settembre 1916 e fu ucciso a Roma il 9 maggio 1978, circa due mesi dopo il sequestro del 16 marzo. Aldo Moro studiò giurisprudenza all'Università di Bari, successivamente diventò professore della stessa università. Nel 1942 venne arruolato nell'esercito e nel 1945 si sposò con Eleonora Chiavarelli, con cui ebbe quattro figli. Nei primi anni 50 fu nominato professore ordinario all'Università di Bari e poi chiese il trasferimento all'Università Sapienza, di Roma, come professore di istituzioni di diritto e procedura penale. Aldo Moro politica entrò in politica durante i primi anni 40, e partecipò alla fondazione del Partito Democrazia Cristiana. Dopo l'elezione a vicepresidente del Partito nel 1946, Aldo Moro fu nominato nel 1948 sottosegretario agli esteri. Nella seconda metà degli anni 50 fu ministro della pubblica istruzione e introdusse lo studio dell'educazione civica a scuola. Dal 1963 al 1976 fu eletto per cinque volte presidente del Consiglio dei Ministri. Fu sequestrato il 16 marzo data storica perché giorno dell'insediamento del nuovo governo Andreotti. Durante gli anni in politica, Aldo Moro ed Enrico Berlinguer furono fautori di un compromesso storico che vedeva, per la prima volta, democrazia cristiana e Partito Comunista Italiano insieme in quella che veniva anche chiamata solidarietà nazionale. Aldo Moro, il sequestro del 16 marzo Il 16 marzo 2018 Aldo Moro era in auto, insieme con lui cinque uomini della scorta. Verso le nove del mattino furono intercettati in via Fana Roma, all'incrocio con via Stresa, da un commando delle Brigate Rosse composto da 19 uomini. I cinque componenti della scorta vennero uccisi. Aldo Moro fu invece sequestrato e trasportato in via Camillo Montalcini e detenuto per 55 giorni fino a quando, il 9 maggio 1978 fu, trovato morto nel bagagliaio di una Renault 4 rubata in via Caetana a Roma. Durante la prigionia, Aldo Moro scrisse diverse lettere, soprattutto a familiari e alla dirigenza della democrazia cristiana. Ipotesi sul sequestro e sull'omicidio di Aldo Moro Le ipotesi alla base del sequestro prima e dell'omicidio poi sono diverse e sono state sviscerate durante questi 40 anni. C'è ritiene possibile un coinvolgimento della P2 e dei servizi segreti, un possibile coinvolgimento dell'autonomia operaia, un altro dell'URSS, sostenuto dal fatto che nel 77 uno studente universitario russo che seguiva le lezioni di Moro fece domande sulla scorta e sull'auto del presidente, forse era un ufficiale del KGB russo, ma anche un possibile coinvolgimento degli USA e di altri stati. Aldo Moro, appunti e temi svolti per la scuola e giorni successivi al ritrovamento del corpo del 9 maggio 1978 furono arrestati i brigatisti coinvolti nell'agguato e, successivamente, indagati e giudicati circa 60 imputati. Nel 2014 una commissione è stata costituita una commissione di inchiesta parlamentare, le cui carte verranno presto viste dai PM della Procura di Roma. Per approfondire vita, contesto storico, sequestro e morte di Aldo Moro, studia con le nostre risorse, Aldo Moro e la politica europea dell'Italia degli anni 70 All'appunto ripercorre brevemente gli ambiti entro cui si snodò l'attività di Aldo Moro a favore dell'integrazione europea durante gli anni in cui ricoprì la carica di ministro degli esteri Il caso Aldo Moro Il caso Moro, appunti sul rapimento, sulla prigionia e uccisione di Aldo Moro Tema svolto su Aldo Moro Tema svolto su Aldo Moro, il caso che sconvolse il panorama politico italiano nel 1978 Brigate Rosse Storia, eventi e protagonisti dell'organizzazione terroristica che ha segnato gli anni 70 Italiani, anche noti come gli anni di piombo Tema svolto sul terrorismo internazionale Negli ultimi anni gli atti terroristici hanno avuto una larga diffusione che ha creato tensione nell'opinione pubblica Tema sul terrorismo internazionale